In questo video mostriamo una nuova funzionalità di Analyst, ovvero la possibilità di visualizzare il libretto su Google Earth. Analizziamo il seguente libretto, Pregeo. Cliccare su File, Google, Visualizza libretto. A questo punto si avvierà Google Earth. I punti del libretto saranno visualizzati. Attendere qualche secondo. E questi sono i punti del vostro libretto, che avete rilevato con Stazione totale o GPS, e vengono visualizzati direttamente su Google Earth.